Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Un drammatico incidente ha turbato la tranquillità del quartiere Barone a Milano. Un uomo di 61 anni è stato ferito all'occhio con un cacciavite. La responsabile è la sua vicina di casa, con cui aveva avuto una discussione poco prima. L'aggressione è avvenuta in modo inaspettato. La donna ha colpito l'uomo attraverso lo spioncino del portone della sua abitazione. Al momento dell'aggressione, la donna si trovava già in libertà vigilata e ora è stata arrestata per lesioni aggravate e resistenza a un pubblico ufficiale. Al momento dell'intervento della polizia, chiamata dalla vittima, la donna minacciava ancora con il cacciavite e un coltello anche gli agenti. La 45enne, con un passato di reati contro la persona, sequestro, lesioni e resistenza, è stata arrestata. Mentre il 61enne è stato portato all'ospedale San Paolo per le cure necessarie a una ferita all'occhio, fortunatamente lieve. Mentre le cure necessarie a una ferita all'occhio, fortunatamente lieve. Grazie.